Oggi mi sono svegliata e sulla prima pagina del giornale c'era una notizia che riguardava Fini e allora ho pensato perché non scrivere una poesia per lui? Eccola qua. Qualcuno ti guida. Qualcuno ti inspira. Certo che non è facile per te. Vuoi essere ed agire come se tu fossi un sire. Raccogli i rastrelli e ti vedo anche i fornelli. Vuoi essere solo? Giocare un ruolo? Ti avviso, stai attento. Per tutto ci vuole tempo. Grazie.